Serata noiosa, nulla da vedere in tv, in questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e benvenuti se è la prima volta sul mio canale, bentornati se già ci conosciamo e state seguendo la run di Mass Effect nel nostro quarantasettesimo, potrebbe essere, episodio di Mass Effect. Ora apriamo questo episodio abbastanza costretto, diciamo, a fare qualcosa di trama principale, ricordandovi il canale del mio amico Omar, appunto, CGM Cinema e il suo canale Omar Prazzoli dove porta Gameplay. Sul canale CGM Cinema ha molti cortometraggi, in pochissimi qualcuno compaio anch'io, quindi vi lascio tutto in descrizione, miniature a video e anche i suoi gameplay sul suo canale personale Omar Prazzoli, quindi vi lascio tutto in descrizione e a fine video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo costretti ad andare in mappa galattica, Ehi, comandante, buone notizie. Sembra che il segnale di riconoscimento del razziatore sia finalmente pronto. Non è del tutto esatto, signor Moro. Il congegno è alimentato, ma causa una certa instabilità imprevista in altri sistemi. Consiglio analisi più accurate prima di provare a utilizzarlo. Quanto è il tempo stimato? Non possiamo rimandare per sempre la missione. Quanto ci vorrà? Una scansione completa? Con questa roba chi può dirlo? Forse faresti meglio prendere la navetta per questa missione. Farò in modo che sia tutto pronto per il tuo ritorno. Comandante, sono Miranda. Ho già informato la squadra. Ci incontreremo sulla navetta. Quando saremo più vicini alla nostra destinazione, potrei decidere chi portare con te. Hai pensato a tutto, Miri. In tal caso immagino che scenderò alla navetta. Joker, la nave è tutta tua. Abbi me cura. Agli ordini, comandante. Ok. Andiamo, penso, in sala macchine. Ecco qui, livello 4. Livello 5. Non ci siamo mai scesi nel livello 5. Abbiamo preso una squadra scelta così dal nostro computer. Ti sto dicendo, Ida, che le tue rilevazioni sono sbagliate. Sono solo radiazioni. Ho rilevato un segnale nascosto nei disturbi statici. Stiamo trasmettendo la posizione della Normandy. Trasmettendo? E a chi? Aia! Andiamocene! I sistemi di propulsione sono disattivati. Rilevo un virus nei computer della nave. Dal segnale di riconoscimento? Perché non l'hai eliminato? I sistemi difensivi principali sono offline. Possiamo salvare la Normandy, signor Moro. Ma deve aiutarmi. Mi affidi la nave. Cosa? Sei pazza? Ci manca solo che tu cominci a cantare Daisy Bell. Sbloccando i miei database interdetti potrò avviare le contromisure. Il condotto di manutenzione nel laboratorio scientifico la porterà al nucleo IA. I corridoi principali non sono sicuri. I collettori hanno abbordato la nave. Le luci di emergenza la guideranno, signor Moro. Allora, dobbiamo usare Joker in questa missione, come vedete. Merda, merda, merda! E non Shepard. Guardate i collettori. Merda, 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 merda! Ok, striscia fino al punto. Il condotto di manutenzione è situato in fondo al laboratorio scientifico, eh. Ok, siamo scesi al quinto livello. Rilevato diversi nemici sul ponte equipaggio. Joker, il ponte brulica di quelle cose. Stammi vicino, ti proteggerò! Stanno rapendo l'equipaggio, avete visto? Reattore a fusione principale offline. Attivazione delle celle di carburante H di emergency. Dottore, se c'è acqua o sei stata presa. Vai. D'accordo, sono... Da te. Connetta il nucleo al modulo di controllo primario della Normandy. Fantastico. Vedi, si inizia sempre così. Quando saremo tutti delle batterie organiche, indovina chi incolperanno? Tutto colpo di Joker. È stato un vero imbecille. Ho passato tutto il giorno a calcolare Pi Greco perché lui ha connesso la dominatrice. Ah, ho accesso ai sistemi difensivi. Grazie, signor Moro. Ora deve riattivare il nucleo primario sul ponte macchine. Vuoi che io torni a strisciare in questi condotti? Mi piace vedere voi umani in ginocchio. Era uno scherzo. D'accordo. Comunque è bellissimo il rapporto tra Ida e Joker. Perché poi Ida comunque tira fuori questo... Ecco qua, vedete, scendiamo al condotto 5. Ok, siamo in una nuova zona... No, siamo dove c'era Jeff. Stiamo sempre attenti a come ci muoviamo. Avete visto? Guardate. Stanno portando via equipaggio. Ponte macchine privo di nemici. Procedere attivi il motore e io aprirò tutti i portelloni mentre acceleriamo. Tutti i nemici saranno eliminati. Cosa? E che ne sarà dell'equipaggio? Non ci sono più, Jeff. I collettori li hanno presi. Ah, merda! Sigillo la sala macchine. Ho il controllo. Epurazione completata. Nessun'altra forma di vita a bordo. Chiusura portelloni estiva in corso. Perfetto, piccola avventura di Joker, ragazzi. Ha avuto fine, ma siamo stati attaccati dai collettori. Quindi, Ida e Joker hanno dovuto imparare a fidarsi uno dell'altro in questa missione, anche se Joker non la voleva Ida. Tutti quanti. Hai perso tutti quanti e hai quasi perso anche la dannata nave. Lo so, d'accordo? Io c'ero. Non è colpa sua, Miranda. Nessuno di noi se n'era accorto. Il signor Taylor ha ragione. I dati nocivi contenuti nel nucleo dei collettori erano ancora più sofisticati del virus a scatola nera inviato dal razziatore. Stai bene, Joker? Ho sentito che è stata dura. Come ti senti? Ci sono un sacco di sedili vuoti qui. Abbiamo fatto tutto il possibile, Jeff. Già. Grazie, mamma. Il virus è comunque stato debegato? La nave è pulita. Non possiamo rischiare che succeda ancora. Ida e io abbiamo ripulito i sistemi. Il sistema di riconoscimento del razziatore è online. Possiamo varcare il portale di Omega 4 quando vuoi. Non voglio neanche discutere sulla liberazione di una dannata IA. Cosa potevo fare contro i collettori? Spezzarmi il braccio contro di loro? Ida ha ripulito la nave. È a posto. Vi assicuro che sono ancora vincolata dai miei protocolli di programmazione. Anche se non lo fossi, voi siete il mio equipaggio. Mi fido di Ida. Ida ha avuto diverse occasioni per ucciderci. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Sembra che abbiamo tutto il necessario per salvare l'equipaggio. Abbiamo fatto tutto il possibile. È tempo di andare ad affrontare i collettori. Allora. Se dico siamo pronti, andiamo. Proviamo. Joker, torna sul ponte. Voi altri, ai vostri posti. Sì, signore, comandante. Quando sei pronto, consulta la mappa. Perfetto. Allora, vedete? Siamo proprio pronti per l'ultima missione. Usa il portale di Omega 4. Quindi, ragazzi, controlliamo solamente se possiamo fare ancora il progetto Overlord. Che sarà il prossimo episodio che volevo portarvi. Ecco qua. Perfetto. Vedete? Possiamo andare a fare il progetto Overlord. E quindi, usciamo dalla nostra... Ma hanno preso anche Kelly! Ma no! Ragazzi, ci stiamo avvicinando al finale di Mass Effect. Siamo nell'endgame. Andremo a fare il progetto Overlord. Prima che tutto questo accada, ovviamente. Io vi chiedo, se questo mini episodio vi è piaciuto, lasciate like. Oppure vi chiedo, come sempre, di iscrivervi al canale. E vi ricordo, i due canali, soprattutto il primo canale CGM Cinema, gestito dal mio amico Omar Prazzoli, e sul secondo canale, appunto, Omar Prazzoli, che è il canale dove porta gaming. Nel primo canale ci sono molti suoi cortometraggi che meritano di essere visti, tra cui ce ne sono anche alcuni dove presenzi oppure io. Noi ci vediamo al prossimo video per avviare la missione suicida, e anche per il video della missione del progetto Overlord, il DLC. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti. E ovviamente grazie di aver visto questo video.